Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo dello spettacolo Mediaset piange la scomparsa di uno dei suoi volti più amati Lutto nel mondo dello spettacolo, un volto amatissimo di Mediaset ci ha lasciati La notizia della scomparsa ha sconvolto il pubblico e i colleghi Un'improvvisa e tragica perdita che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano Ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di milioni di telespettatori Il suo sorriso, la sua simpatia e la sua professionalità resteranno per sempre nei nostri cuori Dal pool antimafia ai teleschermi di forum.l'ex procuratore aggiunto di Roma, Italo Ormanni, si è spento all'età di 88 anni La sua carriera, segnata da importanti inchieste sulla Camorra e su alcuni dei più noti casi di cronaca nera italiana Tra cui il caso Orlandi, ha preso una nuova piega a partire dal 2011, quando è entrato a far parte del cast di forum La sua figura, così legata al mondo della giustizia, ha portato una ventata di autorevolezza e competenza nel popolare programma televisivo La sua carriera, segnata da importanti inchieste e da un impegno costante nella difesa dei diritti dei cittadini Ha dimostrato anche attraverso la televisione come la giustizia possa essere uno strumento di trasformazione sociale Oltre alla sua brillante carriera come procuratore, Ormanni ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo La sua collaborazione con Sergio Zavoli e Renzo Arbore ha dimostrato la sua versatilità e la sua capacità di comunicare con un linguaggio semplice e diretto anche temi complessi La sua vita è stata un continuo alternarsi tra l'impegno nella lotta alla criminalità e la passione per la comunicazione Dalle aule in di giustizia ai set televisivi, Ormanni ha sempre dimostrato un grande rigore intellettuale e una profonda umanità Il mondo della televisione e della giustizia piange la scomparsa dell'ex magistrato, noto per le sue indagini su casi di grande risonanza Che nella sua lunga carriera ha saputo coniugare la sua profonda conoscenza del diritto con la passione per la comunicazione La sua partecipazione a programmi delle reti Mediaset, come Forum in Onda su Rete 4, ha reso la legge più comprensibile al grande pubblico Ha contribuito a diffondere una cultura giuridica sul piccolo schermo, dimostrando come sia possibile parlare di temi complessi con un linguaggio semplice e diretto Con Italo Ormanni se ne va un pezzo della nostra storia. Lo ricorderemo sempre per la sua passione e la sua determinazione